Un saluto a tutti gli amici telespettatori Super Santos Massimo Gianni, Arezzo TV, parliamo degli Amaranto, dopo la bella vittoria nel campionato contro l'Orvietana è arrivata la doccia fredda in casa ad eliminazione diretta contro il Pinet, totalmente diretta che siamo andati fuori insomma per una disattenzione finale che ci è costata veramente cara quindi addio alla Coppa Italia ma adesso ci sarà modo di concentrarsi completamente immergersi completamente in quello che è l'obiettivo principale cioè la vittoria del campionato allora si parte subito con la nostra sigla la nostra sigla e poi andremo a presentare gli ospiti della puntata odierna, restate con noi pronto a croce l'ospetta Neri la nove strada ed è il gol di Domenico Neri Lorenzo 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 eccoci qua di nuovo dopo la sigla andiamo subito a presentare il primo dei due ospiti Federico Scapecchi assessore allo sport ciao Federico collegato con noi dalla sede di Palazzo Cavallo nel suo ufficio di assessore allo sport e poi Luca Morosi che è il corrispondente il giornalista che segue l'Arezzo per la nazione quindi il quotidiano più importante di Arezzo allora io inizierei subito con Federico se permetti Luca perché insomma la notizia che è arrivata proprio ieri mattina riguardo l'accordo da parte della società con il comune nello specifico con l'assessorato allo sport per il quartier generale l'Arezzo sarà diciamo di scena per gli allenamenti il suo quartier generale sarà rigutino grazie all'accordo con il comune di Arezzo allora Federico è stata una giornata importante quella di ieri ma sì diciamo che noi nell'ultima giunta dell'anno quindi il 30 dicembre del 2020 avevamo approvato l'affidamento di due impianti sportivi uno era lo skatepark ne abbiamo trattato notizie anche quello sarà interessato ai lavori di importanti rifacimenti quasi una riforma del tutto perché c'è rimasto poco del vecchio skatepark quindi siamo molto contenti di quello ma anche Rigutino che a seguito del bando che era l'unico bando veramente andato deserto nel corso dei primi che erano usciti a maggio-giugno dopo i mesi estivi l'Arezzo si è fatta avanti e appunto si è dato da fare perché oltre a redigere il progetto per la riqualificazione che aveva previsto il comune verrà fatto un qualcosa di più verrà realizzata anche un'area ludica che poi sarà a disposizione di Rigutino del paese della frazione quindi tutti i cittadini e cosa ancora più importante al di là dell'investimento economico che è importante ma non è solamente quello che conta c'è praticamente una piena collaborazione tra l'Arezzo Calcio che è di fatto il nuovo gestore e la Virtus Lignano che è il precedente gestore che in tutti questi anni ha portato avanti l'utilizzo e la gestione di questo impianto ecco questo è importante perché la Virtus Lignano ovviamente ha una memoria storica del posto di Rigutino Rigutino è una frazione molto popolosa tra l'altro da non sottovalutare la presenza di tantissimi tifosi amaranto che seguono l'Arezzo sia in casa che in trasferta e quindi questa collaborazione tra le due società può sicuramente fruttare a tutti sia la Virtus Lignano che avrà modo di collaborare appunto con la squadra principe della nostra città per l'Arezzo Calcio che avrà modo di inserirsi ancor più a Rigutino tra l'altro sappiamo tutti che la società la mag la società che detiene la proprietà ha in possesso l'albergo di Rigutino quindi per loro a livello logistico è veramente perfetto questa soluzione ma chi ne gioverà principalmente saranno i cittadini che avranno la possibilità di vedere l'Arezzo allenarsi le giovanili dell'Arezzo allenarsi e giocare e i giovani calciatori in erba di Rigutino che avranno appunto uno dei quartieri generali della società sportiva della città proprio a casa loro tra l'altro l'Arezzo punta molto su questo impianto anche per la nascente academy quindi la scuola calcio ma d'elite dove sarà nell'Ocutolo il nostro lo chiamo ancora capitano io a essere a capo di questa è sempre capitano Federico ho tutto rispetto per Settembrini ovviamente senza nulla togliere però ma credo che sia il capitano anche per Settembrini appunto appunto e quindi ecco è una bellissima cosa andiamo avanti noi siamo contenti come amministrazione perché andiamo avanti con questo programma di riqualificazione degli impianti che al netto di qualche piccolo inciampo si può tranquillamente dire nel corso del tempo però piano piano tutto sta andando a regime quindi spero ben presto magari di rivederci qua non tra molto per parlare bene anche del campo Laurentini di Pescaiola così chiudere un po' il cerchio di questi primi bandi che sono usciti allora Luca io credo che sia un passo avanti veramente decisivo da parte della società no poi si parla tra l'altro ce lo confermerà Federico ne ha parlato ieri il presidente ai nostri microfoni non solamente nostri per la verità insomma si parla di un investimento intanto iniziale di 60.000 euro è una ristrutturazione totale l'Arezzo avrà una casa finalmente Luca sì senz'altro è una notizia importante perché insomma sappiamo bene quanto siano di primaria importanza per una società sportiva le strutture l'Arezzo ha spesso a girovagato negli anni alla ricerca di campi dove potersi allenare dove poter far allenare anche le squadre del proprio settore giovanile e il fatto di avere a disposizione un campo in più un impianto sportivo come quello di Rigutino che tra l'altro ricordo ci ho anche giocato nel passato insomma è sempre stato un bellissimo impianto credo che sia di fondamentale importanza poi ecco dimostra ancora una volta il progetto serio della società da quando insomma Guglielmo Manzo ha preso le regini in prima persona ho visto veramente un cambio di passo che viene confermato anche da da questa da questo investimento che è un investimento importante che permette di usufruire di questa di questa struttura e niente poi è più importante anche il fatto che non sia in città ma anche in un in un paese della provincia di Arezzo perché comunque sappiamo che abbiamo tantissimi tifosi anche nelle varie vallate dovevo avere un punto di riferimento che non sia Arezzo città è anche un bel vanto e un modo di avvicinare anche magari i tifosi che non sono che non vivono in città ecco può confermare Assessore ci si conosce da talmente tanto tempo che diciamo che dal punto di vista professionale si dovrebbe dare del lei specialmente ma ci mancheremo cioè allora Federico allora ci confermi questa questa cifra insomma una cifra che è una cifra importante e poi credo che insomma io ho cercato di stimolare un po' il presidente perché ho un vecchio pallino con Federico ne abbiamo parlato tante volte anche nel corso di conferenze stampa e io spero che non si fermi qui la società ora intanto è un primo passo fondamentale e poi c'è il sogno stadio un sogno stadio di proprietà che sarebbe veramente insomma qualcosa che in questo momento può apparire anche irraggiungibile però secondo me con un po' di buona volontà si può trovare il modo per avere uno stadio finalmente di proprietà ma allora il primo passo è direi il terzo passo perché l'Arezzo in questo momento è impegnato il lavoro di riqualificazione allo stadio alle caselle e appunto da pochissimo anche a Rigutino a livello di importi confermo i 60 mila euro per Rigutino a fronte dei 35 mila euro che avevamo richiesto nel bando quindi praticamente è una cifra che non è il doppio ma ci si avvicina quindi ancora una volta come per ora tutti i bandi che abbiamo pubblicato le società sportive che partecipano in questo caso in un secondo momento mettono a disposizione più risorse di quelle che il comune aveva preventivato quindi diciamo rispetto ai lavori fatti dal comune qui siamo già a livello intorno al milione di euro in confronto ai circa 200 mila euro previsti quindi circa un quinto circa 5 volte quello previsto tra tutti i bandi finora andati a buon fine poi dicevo dello stadio delle caselle lì già lo scorso anno avevamo prorogato la gestione dello stadio e conseguentemente delle caselle che sono una loro pertinenza lì l'importo si aggira intorno agli 800 mila euro la parte dell'euro nella fa le caselle con un'importante ristrutturazione più sono i lavori di impermeabilizzazione dello stadio di rifacimento degli uffici che stanno andando avanti dopo oggettivamente qualche piccolo ritardo dovuto non solo ai noti problemi che conosciamo tutti relativamente alla guerra e quindi al reperimento delle materie prime all'aumento soprattutto dei costi delle materie prime ma ad esempio nelle caselle c'è stato anche qualche ritardo dovuto all'omologazione più che all'omologazione alle autorizzazioni da parte della federazione per rinnovare il nuovo campo in sintetico e quindi tutte le indagini anche proprio sul manto erboso sul sottosuolo che erano necessarie a quanto ho detto appunto ieri Presidente siamo ormai vicini di tutte quelle che erano le carte bollate state riempite e quindi nel giro di pochi giorni qualche settimana al massimo dovremmo vedere appunto la stessura del nuovo manto erboso e anche lì è la città che ci guadagna alla fine perché l'Arezzo è gestore ma ricordiamo sempre che noi parliamo di impianti pubblici quindi pubblici sono e pubblici restano e quindi sono a disposizione di tutte le società sportive anche dei singoli cittadini che poi vogliono usufruirne ovviamente compatibilmente con quelli che sono gli impegni dei gestori venendo allo stadio l'idea c'è nota dolente dai ma fino a un certo punto perché ovviamente quando si parla di maratona è ovvio che la nota è dolente ma come dico sempre pensare a un investimento in questa fase sia pubblico che privato a maggior ragione se pubblico per istrutturare un settore importante dello stadio perché è di rimpettaio della tribuna quindi diciamo per quanto la curva poi sia più grande perché teoricamente tiene 5.000 persone però insomma lavori importanti che richiederebbero milioni di euro ecco in una categoria purtroppo dico ora dove difficilmente la vedremo piena probabilmente avremmo qualche sparuto spettatore con dei costi enormi rispetto all'incasso per poter tenere aperta un settore del genere visti le normative di sicurezza ma vi dirò di più faccio sempre questo esempio la scuola del Monza che come tutti sappiamo quest'anno discuta il suo primo campionato di serie A lo scorso anno era in serie B e il settore maratona che loro chiamano distinti già l'anno scorso serie B era chiuso ha riaperto quest'anno quindi addirittura la società di serie B sicuramente è un stadio più grande sicuramente un bacino di utenza più ampio di quello di Arezzo se non altro perché la provincia di Monza ha credo tra i due alle tre volte gli abitanti di quella di Arezzo però appunto anche loro hanno fatto un campionato di serie B di vertice tra le altre cose senza avere la maratona quindi io mi auguro di avere domattina il problema della maratona perché significherebbe avere un Arezzo veramente in alto nella gradatoria del calcio nazionale però ad oggi questo non c'è poi da lì a dire rendiamo il settore più dignitoso possibile perlomeno all'occhio quello è un altro paio di maniche giustamente è necessario farlo è necessario sistemare la parte dietro quindi dove sono cresciute erbacce veri e propri alberi e possibilmente ad esempio una cosa che mi è stata detta da molti tifosi c'è basterebbe rimettere le bandiere perché ci sono le tre aste le tre bandiere anche abbastanza belle importanti grandi quello probabilmente riusciremo a farlo non è un investimento niente non è nemmeno quantificabile a livello di esborso economico però ecco da lì andare avanti sicuramente il progetto c'è la società ne abbiamo parlato anche martedì proprio insieme quando ci siamo visti anche con appunto con il presidente D'Avrito Solignano per mettere un po' le basi di questa collaborazione l'idea c'è però chiaramente da cosa nasce cosa piano piano la società da questo punto di vista è seria e quindi auguriamoci tutti di fare i giusti passi sia sul campo che poi a livello anche di strutture perché quello che abbiamo preso come passo è buono allora è chiaro che un investimento pubblico non è neanche lontanamente ipotizzabile non è ipotizzabile ai massimi livelli neanche in condizioni di estrema emergenza è un problema un po' nazionale quello degli stati noi siamo un po' il paese sì del sole del mare della buona cucina di tutto quanto e anche del calcio che è lo sport nazionale per eccellenza abbiamo una nazionale che ha vinto ben quattro titoli mondiali si parla di calcio in qualsiasi angolo della nostra penisola però ci ritroviamo questo è un problema ripeto nazionale con delle strutture che sono vecchie antiquate c'è sempre questo problema dell'intervento su vecchie strutture per arrivare dal progetto alla operatività passano sempre anni quindi c'è sempre questo rincorrersi sta di fatto che la stragrande maggioranza degli stati sono scomodi scoperti e questo ripeto è un problema che ovviamente noi siamo in serie di non è che possiamo pensare e pretendere di avere uno stadio di una certa capienza però un domani raggiungere certi obiettivi che non li voglio neanche nominare però magari potrebbe essere spero fattibile questo piccolo sogno alla fine potrebbe la strada potrebbe essere trovata l'hanno trovata a Torino l'hanno trovata a Udine l'hanno trovata a Frosinone addirittura hanno uno stadio poi guarda caso Federico e Luca da quando a Frosinone hanno fatto lo stadio di proprietà insomma sono andati in serie A poi sono retrocessi adesso sono nuovamente in serie B insomma vuol dire tanto tantissimo avere uno stadio di proprietà non so chi si può rispondere Luca no sì sono d'accordo con questo tuo pensiero Massimo perché sicuramente avere uno stadio di proprietà garantisce sicuramente innanzitutto entroiti maggiori alla società che lo detiene a quel punto e poi secondo me invoglia alla fine anche il tifoso a venire più volentieri cioè con uno stadio di proprietà ben fatto ristrutturato riammodernato vediamo in Inghilterra ad esempio le squadre anche di League 2 di Serie C2 no la nostra Serie C2 ad esempio che hanno stadio bellissimi piccoli gioiellini dove sono sempre pieni insomma è chiaro che più il servizio è alto a livello anche di qualità e più la gente poi viene volentieri magari preferisce andare allo stadio a quel punto che guardarla a casa no in tv sono tutte cose che poi ci puoi mettere dei servizi aggiuntivi negozi attività che lo rendano vivo tutta la settimana insomma quindi è chiaramente avere uno stadio di proprietà ti dà questi vantaggi e poi ne risente anche i risultati positivamente i risultati sul campo perché è tutta una conseguenza no è tutta una catena quindi sì sarebbe credo che sia un passaggio che prima o poi tutte le società in Italia dovrebbero fare siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi però ci arriveremo spero anche noi prima o poi ci arriveremo ci arriveremo allora io vi chiedo un attimo di pazienza ci fermiamo proprio 40 secondi poi so che Federico poi ci dovrà lasciare Federico lo dirai te quando sarà il time out insomma il triplice fischio insomma parliamo in termini gassistici insomma ce lo dici te restate con noi a troppo le nostre città le nostre case le nostre aziende le abbiamo sempre protette ma ora è il momento di farlo ancora di più ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita perché oggi libertà significa sicurezza IEMI all'armi la sicurezza per le cose che ami allora abbiamo ancora la seconda parte Federico potrà stare con noi per ancora cinque minuti circa quindi Luca io gli darei subito la parola passiamo al calcio giocato insomma ieri siamo rimasti un po' così di sasso qualche volta al novantaquattresimo arrivano le buone notizie ieri è arrivata quella cattivissima insomma siamo fuori dalla Coppa Italia allora prima di tutto complimenti a questa squadra che abbiamo affrontato perché l'avevamo un po' studiata sulla carta e prima nel suo girone in serie D ha fatto vedere un buon calcio insomma ci ha messo specialmente nel primo tempo un po' in difficoltà è andata in vantaggio avevamo riacciuffato il risultato poi insomma poco prima del triplice fischio è arrivato questa imbarcata questo contropiato è un po' ingenuo e non è la prima volta che accade però diciamo che adesso l'Arezzo avrà l'occasione di concentrarsi completamente su quello che è l'obiettivo principale che è la vittoria del campionato Federico so quindi non ti chiedo anticipazioni so che state studiando qualcosa su questo centenario insomma è tutta una sorpresa quindi ripeto non ti chiedo non ti faccio domande indiscrete però bisogna che adesso centri questo obiettivo nell'anno del centenario via quest'anno a settembre grande festa vabbè chiaramente lo stadio le caselle rigutino possiamo parlare di tutti questi argomenti per ore e ore ma è ovvio che poi nella testa del tifoso di tutti noi quest'anno c'è un solo obiettivo va bene tutto ma se dovessimo raggiungere tutti gli altri tranne quello che non nominerò la stagione non sarebbe positiva poi chiaramente la Coppa Italia ecco qui ci sono due scuole di pensiero ma questo accade anche nei massimi campionati anche in serie A ad esempio ieri è uscito l'Arezzo dalla Coppa Italia di serie D ma è uscito anche il Milan dalla Coppa Italia normale ecco ci sono tifosi di entrambe le squadre ma di tutte le squadre da cui capita di uscire magari un po' prematuramente da queste competizioni dire vabbè meglio ci concentriamo sul campionato dobbiamo focalizzarci lì io non sono proprio così sono uno molto competitivo quindi se gioco anche a pari o dispari mi va di vincere anche se giochiamo tanto per fare quindi io ci sto nelle competizioni finché ci posso stare sono contento però oggettivamente è anche vero che giocare di mercoledì in una fase cruciale del campionato perché sappiamo tutti noi che i campionati tra gennaio e febbraio si decidono solitamente qui si capisce chi ha la forza ad andare fino in fondo e chi invece a un certo punto molla quindi oggettivamente avere un impegno settimanale con una cadenza ben precisa è sicuramente un vantaggio per la squadra per la preparazione anche toccando un ferro per eventuali infortuni eccetera riducendo il numero di partite però comunque sia diciamo non è che ci faceva schifo insomma andare avanti al di là di questo sì complimenti al Pineto complimenti al Pineto che sta facendo un ottimo campionato e quindi anche un'ottima Coppa Italia peccato per la disattenzione che poi appunto la partita era sul pareggio quindi insomma era molto equilibrata avremmo visto i rigori saremmo anche divertiti con l'ottere dei rigori però pazienza a questo punto passo dalla parte di quelli che dicono da una parte meglio così quindi concentriamoci sul campionato già tra pochi giorni domenica c'è la partita col Foronica Cavorrano che è di fatto uno scontro diretto perché è comunque sia mi sembra che poi il calendario i giochi del destino abbiano messo di fronte anche Pianese e Poggi Bonzi quindi le prime quattro esatto Poggi Bonzi e Pianese la Pianese che va a fare visitare Poggi Bonzi ecco quindi noi ti faremo anche Poggi Bonzi ovviamente domenica che ci siamo ma mica però per rendere più vivo il campionato eh semplicemente sì 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 ma infatti saremo con la famosa radiolina incollata esatto ma questo è il destino del calcio il dio del calcio che poi mette di fronte queste partite in queste giornate importanti a maggior ragione dico il mese di gennaio è molto importante per i campionati domenica prossima lo sarà particolarmente per il nostro sì la linea di pensiero mia ma ma sposata anche da da altri che insomma io credo che nelle prossime tre quattro giornate eh adesso deve obbligatoriamente se vuole eh insomma non vuole complicarsi la vita mettere la testa avanti no? eh davanti al gruppo come si dice in termini stavolta ciclistici ehm anche perché dopo dal punto di vista psicologico inseguire diventa veramente affannoso difficoltoso e non non si può sbagliare niente io Federico eh so che devi scappare quindi io ti ringrazio per la tua preziosa eh presenza e la tua testimonianza e naturalmente speriamo di essere qui fra qualche settimana a commentare insomma la fuga eh la grande fuga fuga esatto guardando quel film che vedeva protagonista film di John Huston dell'82 dove ci fu la famosa rovesciata di Pelé la sai no? che John Huston raccontava di Pelé che si mise lì con insomma non era un grande appassionato di calcio dice ora va a capire quante doveva fare sta rovesciata finché si piazzano vediamo quante volte toccherà riprendere tirare un pallone per aria Pelé fece una rovesciata spettacolare è quella del film e John Huston spese le telecamere fermi che tanto meglio di così un po' venire buona la prima buona la prima va bene grazie Federico grazie per l'invito grazie prestissimo grazie grazie a te allora con Luca invece andiamo a commentare questo impegno questo impegno che ci verrà protagonisti in un campo difficile questo è l'anno scorso insomma ci fu una cosciente sconfitta forse la sconfitta che dette la svolta in negativo al campionato io credo e ribadisco non so se è della stessa idea che insomma le prossime tre quattro giornate saranno veramente decisive sì possono sicuramente indirizzare il campionato come hai detto te Massimo perché comunque c'è questo scontro questo doppio scontro diretto domenica e poi anche la giornata successiva la pianese ospita il follonica Gavorrano quindi insomma sono già giornate che in cui punti valgono doppio effettivamente può veramente dare un andazzo al campionato ben preciso e l'Arezzo adesso deve sicuramente infilare quel filotto che indiani aveva invocato prima di Natale che poi purtroppo non si è verificato con quell'inopinata sconfitta in casalinga contro il contro il Tau tra l'altro che giungeva dopo una vittoria in Coppa il passaggio del turno quindi ecco tornando anche a quella c'è un po' di cabala che noi dopo gli impegni di Coppa non siamo mai riusciti a ottenere i tre punti e quindi vediamo adesso che abbiamo perso in Coppa se si inverte la tendenza e riusciamo invece a fare punteggio pieno al campionato sì il campo la trasferta di follonica Gavorrano è sempre una partita molto difficile l'anno scorso purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle è stato sì effettivamente forse il momento in cui abbiamo iniziato a perdere qualche certezza e poi il campionato ci è sfuggito di mano ora arriva in un momento ancora più decisivo e insomma si può veramente dire molto sui mesi che verranno è chiaro che uscire con tre punti in un campo così pesante sarebbe un'iniezione di fiducia importantissima per il proseguo e invece poi anche guardando i risultati che perverrà da Poggi Bons insomma invece un eventuale passo falso può in qualche modo complicare molto la strada Luca la domanda che ti voglio fare poi ieri boccia ferme dentro la sala stampa un po' tra noi con te con altri colleghi abbiamo un po' fatto alcune constatazioni le disattenzioni dell'Arezzo perché che l'Arezzo sia una squadra di primo ordine questo non credo che non possa dubitarlo nessuno ha delle riserve ha una panchina che diciamo presa anche a caso qualsiasi giocatore giocherebbe titolare in qualsiasi squadra quindi ha un signor tecnico però sta di fatto che le disattenzioni perché di questo si tratta ci sono costate carissime e voglio citare insomma che ne so anche quei passaggi all'indietro quello contro il Livorno che ci costò insomma il calcio di rigore e poi l'espulsione che condizionò il match contro il Tau contro il Ponsacco insomma abbiamo ci siamo complicati un po' la vita da soli ma ecco te che spiegazione ti sei data di questo fenomeno e poi voi dite contro queste squadre qui stiamo già io ne ho citate tre però insomma metti anche di prendere due pareggi e una vittoria che non hanno largamente alla nostra portata quest'ora eravamo già in testa non tranquillamente ma eravamo in testa insomma che idea ti sei fatta di questa situazione Luca? Ma allora credo che sia un po' dovuto al fatto che questa squadra diciamo tende sempre a palleggiare poco e ad andare subito ad attaccare e questa alle volte si trasforma un po' in frenesia che ci forse ci porta a commettere degli errori di leggerezza proprio per la volontà di arrivare subito in pochi passaggi e in poco tempo insomma in zona in zona area avversaria un po' può essere questo un po' può essere dovuto anche a un po' la pressione di cui parlava Indiani quella pressione che in una piazza come Arezzo si sente più forte che altrove e che purtroppo come diceva Indiani appunto la maglia pesa e anche giocatori con curricula invidiabili poi magari compiono errori inaspettati ecco può essere un po' queste due cose certo è evidente che insomma a livello puramente poi difensivo per esempio dobbiamo alzare il tasso della concentrazione anche il fatto probabilmente di giocare con questa difesa molto alta come diceva Olvani se non sbaglio in una intervista di qualche mese fa ti porta la difesa a dover avere sempre la concentrazione altissima perché ogni pallone lungo può potenzialmente diventare un lancio in profondità pericoloso per gli attaccanti che attaccano la profondità e gli attaccanti avversari quindi anche quello tenere sempre la soglia altissima della concentrazione non è facile nell'arco di una partita in 90 minuti poi può bastare un momento di defiance che ci può scappare purtroppo la frittata e subire quel gol di troppo ne sappiamo qualche cosa ne sappiamo qualche ma poi ora è chiaro io metto sempre le mani avanti ma lo dico qui in trasmissione ma lo dico un po' con tutti anche Luca lo sa insomma mi conosce ho commentato anche poco prima di entrare qui in trasmissione con degli amici che proprio mi chiedevano com'era andata ieri insomma com'era possibile prendere un gol al 94esimo ora ieri mettiamo che è un episodio che ci poteva stare per carità però quello che dico sempre dico lungi da me criticare un tecnico come Indiani che ha vinto nove campionati noi nella nostra storia la storia dell'Arezzo quasi cento anni non siamo riusciti a vincere nove campionati quindi tanto di cappello però mi sembra che qualche volta ecco sposo un po' l'idea di Settembrini che non è poi una critica proprio diretta al non è una critica una constatazione insomma non può essere un attacco al tecnico però qualche volta veramente bisognerebbe anche un po' badare a sotto cioè quando è il momento di buttare via la palla o cominciare a farla girare senza tentare ad andare a fare sempre gli attacchi scriteriati come abbiamo visto ieri o in tante altre circostanze meglio sarebbe insomma tante volte nascondi la famosa squadra che nasconde la palla all'avversario come hai detto te insomma il Ciro Palla che ieri per esempio al Pineto ho visto fa molto bene specialmente nel primo tempo io io ho veramente ho fatto i complimenti al tecnico del Pineto perché ho detto guardi veramente una gran bella squadra una cosa che aveva detto Settembrini l'aveva detto anche Giovannini se non sbaglio qualche giorno dopo che ogni tanto questa squadra dovrebbe anche soprattutto se in vantaggio gestire abbassare un po' i ritmi gestire un po' di più la palla aspettare magari che si aprano gli avversari nel momento in cui sei avanti nel punteggio e invece questa tendenza sempre ad andare comunque ad attaccare ad aggredire a cercare magari il raddoppio e poi ti porta a subire ripartenze come è successo ieri come è successo anche ieri per esempio al 94esimo a quel punto non ci sta molto di prendere un contropiede in quel modo tutti scoperti 4 contro 2 perché insomma comunque la partita era praticamente finita si va in rigori ok non vuoi andare a rigori io capisco che vai alla lotteria dei rigori però insomma si va in rigori insomma uno può dire abbiamo evitato i supplementari ma c'erano i rigori eh c'erano i rigori tiriamo e poi vediamo che succede insomma esatto perdere o vincere a quel punto è veramente una questione di minimi dettagli quindi ecco ci poteva stare di essere un pochino più accorti in quel momento poi vabbè la partita di ieri comunque a mille attenuanti anche una formazione rimaneggiata gli esordi dal primo minuto ehm di 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 pretato e di arduini eh lazzarini adattato a sinistra terzino a sinistro la mancanza di una punta di ruolo per far rifiatare i gucci quindi tante tantissime attenuanti eh però ecco sta di fatto che le caratteristiche questa caratteristica questa tendenza a non gestire i momenti della partita purtroppo si è vista anche in campionato e non è non è il primo caso isolato Allora speriamo eh di tornare da Follonica eh con i tre punti in saccoccia speriamo perché sarebbe veramente un eh una vittoria che che ci farebbe svoltare definitivamente sono straconvinto eh Luca grazie grazie per essere stato eh con noi eh ringraziamo anche Federico che ci ha già salutato una decina di minuti fa e ringrazio anche tutti voi che ci seguite ogni settimana eh naturalmente sul canale ottantuno di Arezzo TV e poi eh sulle nostre pagine social anche sulla mia personale potete eh riguardarvi la trasmissione in Santa Pace e poi fermare andare avanti insomma prendervi una pausa prendere il caffè quindi allora eh alla prossima settimana grazie Luca ciao un abbraccio e forza Arezzo questo sempre pronto a Croccia Neri la rovescata and they go the next one di Doveri Poleri Arezzo 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 Arezzo